Il successo è qualcosa che deve essere pianificato e il successo è qualcosa che deve essere guadagnato in anticipo. È vero, esiste una cosa come la fortuna, ma ricorda, la fortuna è qualcosa che puoi creare per te stesso se conosci le regole e le segui proprio come ti mostro. Ricorda inoltre che il successo a livello più alto è qualcosa che può essere ottenuto solo portando gli altri con te. La migliore definizione di successo che so è questa. Il successo è la conoscenza con cui ottenere quello che vuoi dalla vita senza violare i diritti degli altri e aiutando gli altri per acquisirlo.